Buongiorno a Daniela Ovadia, coordinatrice scientifica del CICAP Fest. Buongiorno, buongiorno. Ecco, il CICAP torna a Padova in presenza dal 2 al 5 settembre e ovviamente ne siamo tutti lieti. Navigare l'incertezza è il tema scelto per questa mi sembra quarta edizione, dico bene? Esatto. Ecco, navigare l'incertezza è veramente un tema di grandissima attualità. Come si fa? O meglio, si può? Non è molto semplice, è esattamente quello che vorremmo discutere in questo festival. Non è semplice perché in realtà noi esseri umani facciamo proprio fatica a gestire le situazioni incerte. Infatti abbiamo scelto di questo tema innanzitutto ovviamente perché usciamo tutti da un anno di grandi incertezze in cui tutti abbiamo dovuto prendere delle decisioni con elementi a nostra disposizione non del tutto completi, quindi senza avere le informazioni che ci sarebbe piaciuto avere. E quindi abbiamo sperimentato così in prima persona quanto è complicato. In realtà tutta la nostra vita, dalla mattina alla sera, è un prendere decisioni in situazioni di incertezza. Da che cosa ci metteremo la mattina quando siamo davanti all'armadio, a cosa mangeremo, a che strada faremo, se troveremo traffico in una direzione piuttosto che in un'altra. Noi prendiamo queste decisioni sulla base delle informazioni che abbiamo su ciò che ci è accaduto in precedenza nella vita. Ora, questo funziona sulle piccole cose, ma funziona anche sulle grandi cose. Ogni volta che noi abbiamo a che fare con più opzioni di scelta, ci troviamo di fatto di fronte a un'incertezza. Ci sono piccole incertezze a livello individuale e ci sono grandi incertezze collettive, come per esempio, non so, i cambiamenti climatici che dobbiamo imparare a gestire, fenomeni come la pandemia. Quindi ci è sembrato che fosse importante affrontare questo tema con gli esperti di incertezza nei vari settori, per cercare di capire in che modo possiamo farvi fronte. La polarizzazione, cioè la divisione dell'opinione pubblica in buoni e cattivi, in nero e bianco, senza tutte queste sfumature di grigio che poi rappresentano la complessità del mondo in cui viviamo. Ecco, la polarizzazione corrisponde in qualche modo a una scorciatoia per cercare certezze anche laddove realisticamente non ce ne sono? Assolutamente sì, tant'è che credo che una delle parti più interessanti di questo festival sarà quella di sentire dalla viva voce degli psicologi cognitivi che sono quelli che studiano proprio come il nostro cervello gestisce le situazioni incerte e come si aggrappa a qualche certezza quando la trova, anche quando questa certezza poi si sgretola nel tempo e lo abbiamo visto e lo vediamo nei fenomeni di polarizzazione, che vuol dire io mi sono convinto di quella cosa, che quella cosa è vera e anche se tutto quello che succede intorno a me poi mi dimostra che questa cosa non è più vera, io non sono fatico ma a volte rifiuto proprio di cambiare opinione. Questo è un fenomeno che è stato molto studiato in psicologia, è un fenomeno studiato in particolare dagli economisti, c'è un economista che ha vinto un premio Nobel studiando questa cosa, Daniel Kahneman, ha studiato quelli che si chiamano i fenomeni euristici, ovvero le scorciatorie cognitive che la nostra mente prende per facilitarci le decisioni e in particolare uno dei tanti fenomeni che Kahneman descrive è quello di quello che si chiama pregiudizio di conferma, ovvero una volta che noi abbiamo preso una decisione e siamo convinti che quella cosa sia giusta, l'energia che ci serve per cambiare opinione è molto molto maggiore di quella che invece consumiamo per restare della nostra idea. Ed è anche per questo che si polarizzano le opinioni, perché cambiare idea è faticosissimo sul piano proprio mentale e cognitivo, richiede grande elasticità ma anche grande energia. E lo sappiamo bene, grazie di questo inquadramento ci vediamo al CICAP. A presto.